In caso di nuove elezioni in autunno, gli italiani si troverebbero a sostenere nel 2018 una maxispesa per complessivi 1,2 miliardi di euro, solo per costi della politica. I calabresi dovrebbero sopportare invece ben 40 milioni di euro, lo denuncia il Codacons. La mancata formazione di un esecutivo, è detto in un comunicato, ha prodotto il blocco dei lavori parlamentari, ma Camera e Senato continuano a produrre costi immensi. Nel dettaglio delle ultime elezioni del 4 marzo, ad oggi, il Parlamento, tra spese vive, compensi a dipendenti, deputati e senatori e tutti gli altri costi per mantenere in vita le due Camere, è costato complessivamente 379,7 milioni di euro, pur non svolgendo alcun tipo di attività. A tale spesa occorre aggiungere l'organizzazione di nuove elezioni in autunno, considerato che con ogni probabilità il governo Cottarelli, in via di definizione, non otterrà il numero in Parlamento. Per ogni chiamata alle urne, lo Stato spende circa 400 milioni di euro per l'organizzazione dei seggi e tutte le altre spese connesse. Questo significa che la doppia tornata elettorale produrrà costi a carico della collettività per un totale di 800 milioni di euro. Secondo il Codacons, l'impasse del governo, quindi, costerà agli italiani complessivamente circa 1,2 miliardi.